La dodicesima edizione significa che questo premio ha una valenza che viene portata avanti nel tempo. Vengono insegnati di questo premio i rappresentanti di diverse categorie. Quest'anno ci sarà ovviamente una menzione speciale anche per lo sport, per il Pescara. Qual è il significato di un'immagine, di una figura come quella di Rocchi Marciano? Intanto è un grande evento, un grande festival che trae spunto dalla figura di Rocchi Marciano, dal mondo dello sport e da quello che come persona ha significato nello sport e anche nella nostra comunità regionale. Ma in realtà si tratta di promuovere un intero territorio. Da anni l'amministrazione comunale si impegna per queste finalità e finalmente la regione comincia a compiere qualche passo in avanti sullo sport perché si sono liberate giustamente delle risorse anche per questi obiettivi. Il festival si compone di quattro giornate, si andrà dal Pugilato con gli incontri interregionali Abruzzo contro Lombardia il giorno 13 luglio. Poi avremo il 14 e il 15 il primo festival della letteratura sportiva, avremo giornalisti e scrittori di prima firma. Il giorno 15 parleremo di una cosa molto importante, a cui teniamo veramente tanto, è sport e disabilità. Verrà Claudio Arrigoni, la prima firma della Gazzetta dello Sport, massimo esperto italiano di Paraolimpiadi. Poi il giorno 16 avremo la consegna dei premi molto importanti, avremo personaggi di primo livello come Gianni Rivera, Massimo Otto, Leonardo Bundu, Giulio Ciccone e poi le squadre abruzzesi che si sono distinte durante l'anno.